Allora, Facebook, Whatsapp, Snapchat, Twitter, Youborn e tutti il resto. Se c'hai un dubbio devi andare su internet. La pasta incasciata si fa con l'aglio o con la cipolla. E la sbriciolona su internet ce la trovi. Io ce son nato con internet. È meglio di un portierato. Per esempio, ho messo in rete un filmato dove facevo questo. Ecco, serve un cazzo. Grazie a tutti.